Cosa provate Michelle Unziger quando torna a Lugano? Tante belle emozioni, sicuramente emozioni che sono legate soprattutto all'infanzia perché con la mia famiglia siamo sempre stati qua, mio papà è cresciuto e ha vissuto sempre a Lugano quindi quando io torno a Lugano mi viene subito voglia di andare a Gandria a mangiare un formaggino e bere un po' dell'ottimo vino in questi posticini stupendi col motoscafo e emozioni di cuore diciamo, sono sempre molto contenta di tornare in Svizzera Le polemiche su Aurora sono finite? Aurora adesso tra un po' andrà in onda e chi vivrà vedrà, è sempre così bisogna poi vedere com'è all'azione e come lavorerà, io credo molto in lei, secondo me lei è brava Invece Michelle resta sempre a striscia? Michelle è a striscia in questo periodo e andremo avanti con vari altri progetti